Eccoci qua, benvenuti all'ultimo appuntamento con Yo-Kai Watch 4 Oggi completerò tutto quanto quello che c'è da completare In realtà ci sarebbe una sola missione da completare di quelle davvero importanti E parlare con Emma per spidare Emma Oscuro Quindi, andiamo a parlare con lui Eccoci qua Sì, vogliamo spidare Emma Oscuro Forza Spidiamo questa entità malvagia Oddio, non è per forza malvagia Però è lo Yo-Kai più forte di tutti Eccolo qua A quanto pare Emma e Kaira si sono fusi insieme Dando origine all'incarnazione suprema degli Yo-Kai Ecco a voi, Emma Oscuro Ben arrivati, redactivo Yo-Kai Sono contento di rivedervi Anche noi siamo contenti Davvero tanto, tanto, tanto Quindi questa è una missione Ma non è una missione ufficiale Perché non compare nel quest log delle missioni Ma si fermano a 57 Invece la missione finale Quella che io ritengo finale Che non è questa È quella di ispirare Sumo Dragone al Sumo Kai 3 Ma la farò in live questo mercoledì Quindi alle 5 in live faremo Sumo Dragone L'elite Yo-Kai contro l'elite umana Si prospetta lo scontro del secolo Ne speriamo Ok, quindi Allora, per poterlo reclutare Mi sa che devo acquistare il suo La sua arma Quella che porta lì Allo shop di Blasters Ma non ne sono sicuro Magari viene in squadra anche per conto suo O magari no Non lo so Vediamo come va Sarà a livello 100 Almeno Quasi sicuramente Andiamo ovviamente con Akala Il Supremo Non posso fare altrimenti Bene Vai, ogni sparata che da Akala Il Supremo È dolore allo stato puro Bene Mamma mia Quanto è bello Akala Il Supremo Yeah Vai Dai un'altra Dai un'altra Su Che te frega Vabbè Goemon ha fatto schifo ovviamente Perché se non faceva schifo Goemon Lo prendevo Ma ovviamente ha dovuto fare schifo Oh wow Mi sta facendo un po' di Malox Cioè Emma Che è più debole Non ci Non ho ricaricato nessuno Ma scusami Ma solo i maestri sono carichi Ma perché Andiamo così dai Madonna Dai Soros Su Mena E Eurus Vabbè Buonanotte Oh ma Imeni Ma questo se ne va in giro Vai Bruno 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 Fermati Fermati Bruno Ci penso io Tu non sai usarlo Fermati Andiamo con Zuke Bene 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 Perfetto Preso Male Ma preso Male nel senso che non gli ha fatto niente Quello intendevo Non è che lo prende male Perché Se lo prende male Vuol dire che non lo prende Vai Carica proiettile al massimo Ma andiamo un po' Link Facciamo l'energy max di Link Qui Andiamo un po' Vai Tomodachi Bene Bing Scappo Eh ho visto che stava caricando lì A quello ricarica Eccolo Bene Vedi che anch'io punto da un'altra parte Quando vuole sa dove andare Sa dove dirigere Perché non lo fai sempre Andiamo un po' Vai Ok cambiamo un po' personaggio Che abbiamo A Bill Guerriero che vuole fare il suo energy max A posto di Emma che sarebbe ora Vai Eccolo Opla Dai E' tosto sto Emma oscuro Beh certo Deve esserlo tosto Perché se no Non era lo yokai finale Buono Molto buono Bravi ragazzi Ah oddio Stavo guardando Kaira io Mi sembrava Emma oscuro Beh l'abbigliamento è quello eh Ah si è vero Mi sono fatto male da solo In questo caso Bisogna stare attenti con quell'attacco Toh pieta questo Arte floreale che poi in realtà è una mina Povero Link Sta a prendere gli altri schiaffi Oh e lasciami sto a Bill Guerriero Punta anche un po' gli altri Toh Ma niente questo Vai A Bill Guerriero quello che non compensa con la resistenza Lo compensa con tutto il resto A dire è vero Guarda che robina Guarda gira gira Bravo fai gira quella spada Bravissimo Bravo Forza Bill Guerriero Certo quando lo uso io Se dovevo usare il computer Era una sega Quindi abbiamo vinto anche questa volta Vieni in squadra automaticamente Per favore È stata una battaglia leggendaria Detective OK Purtroppo però non era ancora abbastanza Per i miei standard Non dovete fare mai Ti ho devastato Ti ho letteralmente devastato l'anima Una volta reclamato Ho anche il chip Per l'orecchio Possiamo attivare La missione G.Bastiano Alla riscosta Questa è l'ultima missione Che voglio fare per oggi E che comunque concluderà Il ciclo delle missioni A video Di OK Watch Poi ci sarà quella live L'ultima proprio Per chiudere tutto Con il Sumo Kai 3 Sembra che qualcuno Abbia smarrito Un oggetto Nella zona della scuola media Arriva al Doro Sud Andiamo a controllare Sì l'attivo Ma tanto sta qui Guarda Voglio girare Dall'altra parte Ah pensavo Ah pensavo stesse di là Ah perché devo parlare Prima con la ragazza Ok Hello Che fate a scuola d'estate Tu che ci fai? Questo è un chip Un chip Interessante Marta ha trovato Un chip davanti a scuola Ma non hai idea Di che possa E esserne proprietario Forse possiamo aiutarla Noi Certo è una missione Molto base Bene 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 Puoi contarci Che aiuteremo quel ragazzo Due volte L'abbiamo detto Perché siamo delle brave persone A noi Piace ripetere le cose I Jiba Jinpei Si trova qua Che tra l'altro Non si chiama Cioè si chiama Jiba Jinpei Nel gioco originale Ma Ma comunque Eccolo qui No qui non c'è Ma dove l'avrà perso? Chissà se anche qui Fa uno dei suoi re Strani Ciao Stai cercando questo Per caso Non ci credo Dove l'hai trovato Il mio moto chip Sarebbe Credo che Allora È una cosa Che tutti hanno Nell'anime Anche nel gioco Ma in realtà Credo che stia A rappresentare La parte Che manca Di orecchio A Jibanyan Che è all'orecchio Praticamente Dove gli manca Un pezzo D'orecchio E credo che Quello stia A rappresentare Esattamente La parte Mancante Ma È solo una mia supposizione Ecco fatto Ah che bello Ora si che sono più tranquillo Grazie per avermi Lo riportato amico Senza il mio chip Non sarei io La prossima volta Che ci vediamo Ti porterò un regalo Per ringraziarti Che poi credo Serva a comunicare Con gli altri membri Del club YSP Ma comunque Poi lo vedremo Magari meglio Non lo vedremo Ma che diamine È questo tizio Oh giusto Non mi sono presentato Io sono G Bastiano Vorrei sapere perché Non ho letto Niente Perché ho premuto Per sbaglio Avanti Ho premuto Il trigger È un tipo Piuttosto rumoroso Non siete d'accordo Anche voi Eh Tu dici Riesci a vedere Giyokai Eh sì In realtà Lui è Una reincarnazione Di uno Giyokai Per questo Lascia a vederli Certo che sì A proposito di questo Avete visto Mica il mio amico Comanuel Comanuel Forse volevi dire Komasan In giapponese Sanda Yukoma Sì Ho capito Grazie Ecco infatti Ora lo usa Ma che Eh G Bastiano Dove sei finito Comanuel Sei tu Sono alla scuola Magliari Valdoro Ah che so Io ho sentito Non ti trovavo più Che tipo strano Perché Saranno guai Per qui Vi chiedo aiuto Ah Utio Aiuto Ah si fa Il suo rappino Strano Il suo Balletto Danza E cose varie Mi rete il permesso Di attaccarlo Posso pensarci direttamente Io Però direi di fare Come ci ha detto lui E vabbè Questo tiso Mi da sui nervi Siete letteralmente La stessa persona Sì vabbè Ci siamo capiti Lo stesso spirito Ecco Laggiù dietro l'albero C'è vera in ombra Ah quindi Ah quindi Era proprio Canonico Che succedesse Non penso Ti vuoi notare Un'altra missione Che bello qui Che devi solo Tenerlo puntato Per pochi istanti Ti compare Lo yokai E che soprattutto Non vadano in giro Vede l'ombra Allora sorpreso Eh ti vediamo Sì Voi riuscite a vedermi Ci basti Abbiamo ragione C'è uno yokai qui E tu chi sei Il mio nome è Velenombra E sono l'ombra Di Velenotto Se siete in grado Di scovarmi Significa che avete Un cuore puro Ma è fantastico Anche io sono Lo specialista Della girona incognito Ma tu sarai Sicuramente più bravo E ti pego Velenombra Insegnami Quindi sono esperto Di missioni Sotto copertura Salvo poi Che quando vai A fare la missione Lui esca Allo scoperto E faccia E siamo noi Quelli che vogliono Risolvere i guai Proprio così Sono pronta Di imparare tutto Ok Ricordati una cosa Però non parlarne Mai con nessuno Vabbè certo La missione segreta Resterà ovviamente segreta Sì Non voglio leggere Secretamente segreta Dai Ok Chi sono Oh cavoli E loro Dove sbucano I presenti I miei amici Velenombra 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 Questi sono Velenombra Certo Era una trappola La pagherai Che poi teme È un modo molto scortese Di rivolgersi a qualcuno Cioè io sono A livello 120 Sono con degli Yokai Piuttosto Importanti Però Se Velenombra Diventa amico Io non è che Mi tiro indietro Volevo fare Le nergie Un vero peccato Sai Vabbè Sì Livello 18 Che mi aspettavo Quindi Ora che facciamo Fantastico Abbattendo Che fiocchi Viene l'ombra Si può sapere Perché urbi tanto Quanto è uno spavento Detro l'altro Dai consolalo Dammi la tua chiave Così almeno Ecco Ah Certo Per sfidarlo Il maledetto No Non è maledetto Eh sì Il maledetto No Yokai Infatti E vabbè Con quell'oggetto Avremmo la possibilità Di sfidarci ancora Ah La prossima volta Sarà tutte quante Le sue forze Allora possiamo provare A risfidarlo Se ne va Ovviamente Perché non vuole Non vuole perdere tempo Con G.Bastiano È ovvio Allora Comanuel Sei tu Ah Tutta la grande Appena sconfitto Il male di Valdoro Sì guarda Questa era una missione Che si poteva fare In inizio del gioco Il male Non credo sia questo Comunque Come sarebbe a dire Devi tornare qua È in fretta In ogni caso Deve aver scoperto qualcosa Solo tua scomparsa Beh Mi dispiace Ma credo che rimarrò qui Valdoro Ha bisogno di un re come me No Non è vero Ci siamo già noi Detectivi Certo Come no Qua aspettavamo Che arrivassi tu Ok story G.Bastiano Ora segui attentamente Le mie parole Bene I nostri saliti Si separano qua Grazie dell'aiuto Sì guarda Per fare cosa È chip di riserva Va bene Va bene Lasciamo perdere Cielo Tutto bene Tutto bene È un regalo È un regalo È un regalo di G.Bastiano Che ci faccio Non ne ho la più Pallida idea Però amici Questo conclude Il ciclo Delle avventure Di Yokai Watch 4 Non ho Più Nulla Da fare Finisce qui È stato Un bel gioco È Molto più fruibile Di quanto non potesse Essere in giapponese E lo apprezzi Molto di più Una volta che capisci La storia Ad ogni modo Vi ricordo ancora una volta Che mercoledì Ci sarà da live Dove sfiderò Il Sumo Kai L'ultima sfida Del Sumo Kai Raiden Tamemon Sumo Dragone Quindi dopo quella Yokai Watch 4 È concluso al 100% E no Non ci farò da randomizer Ma comunque Non la farò Se proprio dovresti farla Quest'anno Neanche il prossimo Probabilmente Ad ogni modo Per questo video è tutto Vi ringrazio Per averlo seguito E noi Ci vediamo ovviamente Domani con un nuovo video Ciao